Ciao sono Luca di Mr. Gadget, arriva proprio in queste ore nei negozi il nuovo modello di OnePlus, si chiama OnePlus 5T, OnePlus 5T, sostituisce questo modello, il modello con il display 16 noni con il sensore delle impronte digitali sul fronte. Il nuovo modello, eccolo, ha uno schermo 18 noni, una caratteristica tecnica tra l'altro migliorata per quanto riguarda la fotocamera, che è migliorata per gli algoritmi che gestiscono le foto notturne e cos'altro cambia? Scopriamolo insieme. Per cominciare la nostra presentazione di oggi io voglio mettere uno accanto all'altro i due OnePlus che conosciamo bene, ovvero il nuovo OnePlus 5T e il nuovo, scusate, il recente OnePlus 5. Guardate, se guardate i due prodotti mettendoli proprio uno accanto all'altro noterete che a parte la proporzione del display, per cui essenzialmente è stato come se fosse stato aggiunto una piccola striscia di display nella parte inferiore e una striscia di display nella parte superiore, per il resto anche l'impatto delle cornici non cambia tantissimo, perché le cornici laterali erano già notevolmente perfezionate. Vi faccio vedere i due telefoni spenti per mostrarvi come togliendo essenzialmente il sensore delle impronte frontali saremo di fronte a due prodotti molto simili tra loro nelle misure. Cambia ovviamente la posizione del sensore delle impronte che qui viene messo sul retro e di conseguenza, vedete, si abbassa il marchio OnePlus. Altra cosa che vi faccio notare è che è leggermente diverso il sensore della fotocamera. Vedete come la dimensione proprio dei due sensori della fotocamera e anche la posizione delle flash sia leggermente diversa nei due prodotti, così come si presentano per l'uso di tutti i giorni. Per il resto invece le altre caratteristiche sono praticamente identiche. Vi mostro il volume rocker su questo lato, il pulsante per l'attivazione della modalità silenziosa o della modalità vibrazione. Su questa parte invece, sulla parte opposta, il cassettino per l'inserimento delle SIM e poi il pulsante di accensione. Nulla cambia nella parte inferiore del telefono, entrambi con l'attacco USB Type-C con l'altoparlante e poi il connettore per le cuffie da 3,5 mm che viene mantenuto anche nel nuovo telefono. E poi sulla parte superiore invece c'è la parte plastica, quella con le antenne che sono allocate in questo punto. Adesso abbandonata la comparazione tra i due smartphone, abbiamo visto anche essenzialmente come sia dal punto di vista del design a questo telefono, diamo un occhio invece alle funzionalità. Allora, che cosa dobbiamo notare in questo telefono? Tanto display, 6,01 pollici full optic AMOLED display con una razio 18 noni, un sistema con doppia camera sulla parte posteriore del telefono. I sensori sono un sensore di 16 megapixel supportato da un secondo sensore da 20 megapixel, tutto questo tra l'altro per migliorare le foto che sono scattate con poca luce e anche e soprattutto per migliorare ulteriormente la modalità che viene definita portrait. E poi ancora, questo è un prodotto, adesso non vedete essenzialmente, allora questo è un prodotto che grazie alla modalità Advanced Facial Recognition permette di sbloccare il telefono senza bisogno di toccare nulla. Guardate, io sono in questo momento, mi sono affacciato al telefono, vedete non ho toccato, lo rifaccio, guardate che non ho dita che tocchino il sensore delle impronte, mi affaccio sopra il telefono e vedete che dopo un attimo il telefono viene sbloccato. Vi faccio notare anche una cosa, che in questo momento vi sto mostrando un tema che non è il suo, cioè nel senso vi sto mostrando il programma Nova Launcher, vi mostro invece il launcher predefinito di OnePlus, che invece vedete ha questa parte con i widget e le informazioni che potete mettere sempre a vostra disposizione con uno swipe in questa direzione. Io preferisco Nova con alcune delle chicche che sono state inserite che anche dal punto di vista estetico mi piacciono essenzialmente di più. Sapete che a bordo di questo telefono c'è Android 7.1 che la promessa è quella di aggiornare ad Android 8 entro la fine dell'anno. Non c'è materiale metallico, impone questa scelta, non c'è la carica wireless, ma come sappiamo OnePlus spinge molto sul tema della Dash Charge, quindi sul fatto che con mezz'ora di ricarica si possa ottenere l'autonomia che serve per far funzionare il telefono per un'intera giornata. Io vi lascio un attimo con il telefono a vista mentre vado a recuperare qualche altro prodotto che essenzialmente competa con il OnePlus per le misure del display. Ho preso ad esempio il Mate 10 Pro, proviamo a sommare questi due telefoni che hanno una dimensione pressoché identica. Anche lo spessore è molto simile a quantomeno la percezione che questo telefono dà quando viene confrontato al più grande Huawei disponibile. Pixel invece, cerchiamo di ritrovare il fuoco della fotocamera. Pixel, sblocco tutti e due i telefoni contemporaneamente, vedete come il Pixel invece abbia una dimensione superiore. Le cornici, tutto sommato dei due prodotti, lo vediamo attivando soprattutto il bianco, come la cornice del Pixel sia in realtà più generosa. Allora, mettiamo entrambi i display al massimo della luminosità, cosa che abbiamo fatto adesso. Vedete come viri leggermente verso il blu, verso l'azzurro piegandolo il display del Pixel, ma guardate che quando invece viene messo perfettamente accanto all'AMOLED di OnePlus, vedete la luminosità complessiva è inferiore, però il bianco comunque è del tutto apprezzabile. Guardate invece come vira verso l'azzurro quando lo si mette in una posizione di questo genere. Proprio per completare la comparazione tra i prodotti vorrei mostrarvi anche accanto a questi mostri sacri il Samsung Galaxy Note 8, lo mettiamo qui, guardate, certo la diagonale del Samsung Galaxy Note 8 è molto più ampia. Ecco, guardate, ad esempio, riportiamo ancora il corriere come benchmark, mettiamo corriere anche da questa parte. Allora, innegabile che ci sia questa virata verso l'azzurro per quanto riguarda il Pixel. Ripeto, se lo solleviamo invece vedete come ci sia il bianco ancora più che accettabile. Sicuramente questa virata verso l'azzurro ci mette nella condizione, insomma, di avere una valutazione complessiva un po' più, non dico inferiore, non dico inferiore, però insomma con qualche riserva in più sulla qualità del display. Che però io ci tengo a sottolineare, guardate, quando lo si vede di fronte, non ha nulla da invidiare agli altri prodotti che più o meno sono allo stesso livello di gamma. Certo, è molto curioso, sarebbe curioso capire perché sia stata fatta una scelta di questo genere. Ma torniamo alle dimensioni, al confronto tra le dimensioni tra OnePlus 5T e in questo caso con il Galaxy Note. Certo, la diagonale del Galaxy Note è superiore e lo è anche la dimensione complessiva del telefono. Torniamo però dunque su questo oggetto Octa-Core Qualcomm Snapdragon 835, un processore che arriva fino a 2,45 GB di clock. All'interno di questo modello ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. L'esperienza è praticamente stock del telefono. Se vediamo da vicino essenzialmente come si propone il software, vedete che tutto sommato siamo molto vicini all'esperienza stock di Android. Giusto con alcune variazioni, le principali delle quali vengono dalla fotocamera. C'è una nuova interfaccia per la fotocamera che si può gestire con questo, avete visto, swipe verso l'alto. C'è lo zoom 2x che ricorda molto la modalità di utilizzo anche di iPhone. Con uno swipe, vedete, si passa dalla fotocamera alla videocamera. Poi invece qui abbiamo l'effetto profondità, quindi la possibilità di utilizzare la modalità ritratto, a cui potete accedere, vedete, anche con questo cosiddetto verticale. Con verticale in realtà è una traduzione un po' bizzarra della modalità portrait. Poi, come vedete, ci sono modalità pro, timelapse, slow motion e la modalità panorama. Allora, sappiamo anche di questo slider, che è quello laterale, che essenzialmente serve, ed è una novità, una delle funzioni sempre molto gradite di OnePlus, che permette di passare dalla modalità con suoneria alla modalità vibrazione, sino alla modalità silenziosa, semplicemente spostando lo slider in modo molto veloce. Una caratteristica tecnica interessante di OnePlus viene dal suo... Abbasso un attimo il display, perché in questo modo, vedete, stiamo scurrendo tutto ciò che sta intorno. Una delle caratteristiche fondamentali di OnePlus è il fatto che abbia anche un sensore adesso per, diciamo, reagire alla luce esterna del sole e quindi la luminosità si adatta essenzialmente alla luce del sole. La fotocamera, invece, promette una qualità migliore quando c'è la luce del sole. Scusatemi, quando c'è poca luce, devo ancora fare un po' di prove, no? Vedete, fotocamera in cui potete scegliere il formato della vostra fotografia, potete scegliere se l'HDR è sempre inserito oppure automatico, come volete, l'utilizzo del flash e poi anche quanti secondi di timer utilizzare, no? In questo modo avete essenzialmente la gestione, poi, della esposizione nel punto in cui avete scelto di posizionare il fuoco. Se volete vedere anche un tempo di scatto e di messa a fuoco, allora, questo è lo scatto, dunque, con la penna, vedete, tempo di messa a fuoco. In questo caso io ho messo il flash sempre presente, togliamolo definitivamente così, secondo me, le foto sono più attendibili. Vedete, tac, scatto e memorizzazione praticamente istantanee. Guardate il dettaglio su questa scritta sulla penna, si vede molto bene dove la scritta è cancellata dall'uso. Io, in questi giorni, ho letto delle valutazioni del tutto negative di questa fotocamera e mi chiedo da quale assunto parta, perché in realtà non è assolutamente niente male. Abbiamo visto, dunque, la definizione della fotocamera, la velocità. Andiamo a sentire un po' anche l'audio di questo smartphone per capire un po' come si comporta. Un audio che, tutto sommato, si difende per volume. Sentite? Emissione solo da questa parte sotto, inferiore. Il volume è veramente alto, si sente la pressione sonora sul dito e la qualità dell'audio è anche discreta. Non sono molto definiti i bassi. Quello, purtroppo, è una caratteristica che viene condivisa da molti smartphone. Performance, sempre al top, dal mio punto di vista, questo è un oggetto che funziona veramente molto bene. Ci sono anche delle cose molto carine, perché c'è la possibilità di fare un expanded screenshot, ad esempio il fatto di fare lo screenshot di una pagina andando a catturare in realtà tutto quello che viene fatto, viene anche in una pagina, ad esempio, internet in basso. Quindi, essenzialmente, fate partire lo screenshot e poi, facendo scorrere, potete andare a prendere anche la parte inferiore della pagina. C'è una modalità di lettura, ad esempio, che potete attivare. Lo fate in questo modo, ve lo faccio vedere immediatamente dal display. Andiamo a pescare adesso il display. Vedete, potete selezionare la modalità di lettura, scegliere per quale applicazione, vedete che è diventato tutto con tonalità di grigio, per quale applicazione, una volta attivata quell'applicazione, si attiva automaticamente la modalità di lettura. Ci sono le doppie app, come ormai è abitudine. C'è una modalità, ad esempio, di gaming con Do Not Disturb, vuol dire che mentre state giocando non ricevete telefonate che vi disturbino. E poi c'è anche una zona che si può chiamare app locker, che trovate essenzialmente, andiamo a cercare, andiamo a pescarla immediatamente. Scusate che sto andando anche con voi. Eccolo qui, io uso essenzialmente, vedete, privacy app locker. Lui mi chiede di confermare il pin. Scusatemi se non vi mostro il mio pin che apre essenzialmente le porte del parabiso. Voi, in questo modo, potete andare a pescare quale applicazione possa essere utilizzata solo ed esclusivamente con l'utilizzo di un pin. Avete la possibilità anche di utilizzare un tema scuro. Altra caratteristica, anche questa la trovate dal display. Vedete, tema definito, oppure il tema scuro. Adesso verrà applicato nel giro di qualche secondo. Se preferite, potete avere essenzialmente il vostro telefono con questa modalità che tutto sommato esalta molto, secondo me, il fatto che il display sia un AMOLED. Allora, ci sono moltissime funzionalità che potremmo andare a vedere. Adesso stiamo guardando questo telefono da una settimana, per cui magari evitiamo anche, io trovo che questo sia un prodotto molto bello per il suo impatto estetico, per le caratteristiche tecniche. Il prezzo non cambia rispetto al precedente, siamo sempre a 499 euro e secondo me rappresenta una delle migliori proposte che il mercato vi possa offrire. Se mi chiedete se è un prodotto perfetto, probabilmente non lo è come moltissimi altri prodotti sul mercato, però devo dire che il rapporto qualità-prezzo qui è veramente molto, molto, molto vantaggioso. Chi lo comprerà? Si troverà sicuramente bene. Ciao! Ciao!